e benvenuti ragazzi questo è un nuovo video oggi sono finalmente su nessun gioco oggi e come avrete letto dal titolo oggi impareremo a fare il contorno della webcam in questo video forse non ci sarà ma nel prossimo che uscirà ci sarà con Pint che è un programma gratis su windows e niente raga vi lascio il video, bella allora la prima cosa da fare innanzitutto è aprire Pint e anche google la prima cosa da cercare su google è contorno webcam 16 noni poi in base alla vostra webcam quasi tutte sono 16 noni andate su immagini e su immagini ne scegliete una che abbia i quadratini dietro tutti così che nell'ambito grafico sarebbe vuoto per cui è come il green screen fate conto e io in questo caso andrò a prendere una boh, questa qua e qua poi, eccola qua questa qua dai prendiamo questa qua e basterà fare tasto destro sull'immagine e andare su copia immagine poi abbasserete google e dalla lavagnetta che ci sarà in alto a sinistra in Pint la incollerete importante questo passaggio perché ci sarà da fare molte volte ok, ok una volta messo non dovete toccare niente se non cliccare sul bianco quindi né quadratini né webcam per cui fate così ok poi potete sbizzarrirvi voi con quello che volete perché potete aggiungere sia i testi per cui da qua che ne so scrivete in 18 ok scrivete boh col blu fed rix game ok poi io la prendo la metto qua sotto poi magari per fare il contorno prendiamo una forma che ne so questa qua è carina ok questa qua anzi no questa qua e facciamogli fare a no elimina in nero la facciamo ok vediamo un pochettino come viene così ok direi che viene abbastanza bene così ok poi magari mettiamo qua in alto a sinistra sempre andando su google scriviamo iscriviti iscriviti m g ah no aspetta non è che scrive n pg no come cazzo si scrive a png ok e qua vi verranno fuori tutte queste sceglietene una io in questo caso boh scelgo vediamo un po' questo qua dai questo qua copia immagine come nel solito procedimento facciamo incolla sulla lavagnetta e qua possiamo invece accorciarlo perché se là lo accorciavo poi non era più in 16 noni e però ok ok così così aspettate ci sceglierò ne un'altra ok dopo aver fatto questo cerchio qua andiamo e cerchiamo iscriviti se volete iscrivete anche png in questo caso non lo scrivo e dovete sceglierne uno qua veramente pieno io in questo caso sceglierò questo qua copia immagine andiamo su paint incolliamo sempre la lavagnetta e è in nero ma non è un problema perché tanto è fuori per cui non è un problema ok ok posto così rimpiccioliamolo ancora un po' così va bene ok adesso andiamo a cercare like link ok youtube ok questo qua va bene copia immagine incolliamola e rimpiccioliamo tantissimo ok così va bene e lo mettiamo qua e basta direi che la webcam è finita adesso vi mostro anche come scaricarla nel programma di editing in questo caso io utilizzerò Filmora 9 che ve lo consiglio per scaricarlo anzi scaricatelo vi lascio il link per scaricarlo in descrizione perché è un programma ottimo e c'è anche la versione gratuita con la filigrana in mezzo io ho quella a pagamento che potete scegliere annuale ma non 40 euro all'anno per cui sono veramente accessibili non dico a tutti però per la maggior parte delle persone allora una volta fatto questo andate su file salva con nome e adesso vado in boh video webcam ok salva e andiamo sul programma Filmora ok ragazzi allora una volta che siete andati sul programma andate a prendere io in questo caso adesso prendo boh un video completamente a caso prendo questo qua che sarà quello di sottofondo e poi bisogna prendere anche e i file multivediari vabbè e andiamo su immagini e mettiamo questa immagine qua e ok video webcam ok 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 allora iniziamo con questo qua ok ragazzi allora andiamo a mettere il video qua mettete 1080 lasciate quello verde vabbè poi ovviamente per chi ce l'ho per chi non ce l'ho no contorno webcam lo dobbiamo mettere qua per cui elimina dove caspita è ok qua andiamo all'inizio andiamo su questo qua e lo andiamo a mettere qua ok da qua dobbiamo andare a rimuovere tramite questo il colore bianco ok e anche il grigio dove caspita è ok e anche il grigio bianco grigio posso scegliere ok 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 così è perfetto ok adesso qua in questo caso c'è lo zoom e c'è anche la webcam storta ma poi una volta che avete fatto questo potete andare a prendere l'immagine e poterla zoomare per metterla poi in questo caso non è in 16 noni però il video che farò sarà in 16 noni e potete usarla così se il vostro programma non supporta l'invisibile potete dovete fare tutto gris screen per cui tutto quello che è è vuoto lo fate con tutto il gris screen a me in questo caso è venuto un po' male per cui penso che lo farò anche io in gris screen e niente ragazzi se il video vi piace lasciate un bel like se non è iscrivetevi noi ci vediamo ad un prossimo video bye ragazzi